Passione casa Unieuro La lavatrice LG da 7 kg Classe A tripla più, consuma pochissimo E anche lei ci fa un doppio regalo Roventa La caldaia superpotente per risultati perfetti E lo stiratore verticale pratico e veloce Valgono 499 euro Dai, scegliamo la LG a 499 euro E ci prendiamo gli assi dello stiro Un doppio regalo da capogiro Unieuro, batte, forte, sempre Grazie